Giulia Nova, rissa davanti alla stazione tra quattro stranieri, grave un ragazzo marocchino. Politica, il capogruppo PD Paolucci, tutti contro tutti nella sanità abruzzese. Roseto, barriere antirumore, approvata la mozione della Ciancaione, non vanno alzati i muri. Bisenti, il sindaco Saputelli, lavoriamo per riportare il comune nella sua sede storica. Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca. Una violenta rissa si è verificata nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Giulia Nova nel primo pomeriggio di oggi, fra quattro giovani extracomunitari, due marrocchini e due egiziani. Ad avere la peggio sono stati due fratelli di origine marocchina di 20 e 24 anni. Uno, dopo il pestaggio, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Mazzini di Teramo, mentre l'altro, ferito in maniera più lieve, è stato trasferito all'ospedale di Giulia Nova. Stando a quanto è emerso dai primi accertamenti, sul corpo del ferito più grave vi sarebbero ferite compatibili con l'impiego di un'arma da taglia. Al momento risulta introvabile. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno individuato i due egiziani grazie alle immagini delle telecamere di videoserveglianza della stazione. È in corso l'identificazione e nel frattempo si cercano anche dei testimoni. Ed ora passiamo alla politica. Nella sanità è un tutti contro tutti a discapito degli abruzzesi e a pagare è un tecnico. Il capogruppo PD in Regione Paolucci commenta la fine dell'era Claudio Damario alla direzione del Dipartimento Salute. Ci dice tutto. Ferruccio, benvenuti. Dissidie e divergenze di vedute diventate frizioni insanabili e che hanno maturato la conclusione anticipata, scadenza naturale marzo 2026, dall'incarico di direttore del Dipartimento Salute di Claudio Damario, da quattro anni manager pubblico della sanità abruzzese. Per il PD una preoccupante conferma. La sanità è un tutti contro tutti. Oggi cade la prima testa ma i risultati drammatici di questi sei anni di governo Marsilio sono i 200 milioni di disavanzo, il fatto che c'è un taglio enorme alle prestazioni ospedaliere, meno 21 mila rispetto alla legislatura ormai sei anni fa di centrosinistra e i cittadini oggi pagano, pagano i medicinali, sono costretti a lunghe e interminabili file d'attesa. In quella lotta tutti contro tutti dove si denunciano le asle contro altre asle o contro la regione cade la prima testa ed è quella di un tecnico. Quella di Damario è evidente che la politica fa fatica ad ammettere le sue responsabilità ma il fatto stesso di prevedere una struttura di missione è una sorta di autocommissariamento e quindi è di fatto un palesare il proprio fallimento. Voglio solo ricordare che l'Abruzzo otto anni fa, grazie a quella esperienza di centrosinistra, usciva dal commissariamento. Il 15 settembre del 2016, a distanza di otto anni, dopo i sei anni drammatici e fallimentari di Marsiglio, di fatto si è tornati in un commissariamento. Anche in Abruzzo i sindacati e i lavoratori si sono mobilitati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro UNEVA del settore sociosanitario. Solo a Montesilvano, Centinaia, i lavoratori in presidio e in piazza Diaz. Vediamo. Ma sì, c'è in Abruzzo l'adesione allo sciopero nazionale proclamato da Funzione Pubblica CGL, Fisascat CISL, Funzione Pubblica CISL, UILTUXUIL e UIL Funzione Pubblica Locale, per il mancato rinnovo a condizioni accettabili del contratto collettivo nazionale di lavoro UNEVA, Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale. Esattamente 4 anni di scadenza di contratto, 27 mesi dalla presentazione delle piattaforme unitari di CGL e CISLUIL e 17 mesi di lavoro al tavolo, che purtroppo si è chiuso con un nulla. È inaccettabile che la parte datoriale si presenti con 50 euro l'orde di rinnovo mensili, non utili nemmeno a superare il gap dell'inflazione subita in questi anni. Ma soprattutto non è accettabile che la parte datoriale possa pensare che il rinnovo contrattuale debba essere pagate con risorse pubbliche. Quello che noi chiediamo, ovviamente oggi manifestando in questa piazza, è di tornare nuovamente al tavolo, porre le risorse adeguate per dare dignità alle tante lavoratrici e tanti lavoratori che oggi operano a contatto con la parte più fragile della società, trattandosi appunto di lavoratrici e lavoratori del sistema socioassistenziale educativo. Che sono angeli non solo nel momento del bisogno. Certo, sono stati chiamati così durante il periodo Covid perché a contatto con le persone più fragili e quindi sono stati, come dire, chiamati angeli del momento. Oggi è evidente che qualcuno ha dimenticato questi angeli e quindi manifestiamo a livello nazionale ricordando che un'Ebar aggruppa oltre 150.000 lavoratrici e lavoratori a livello nazionale e soltanto qui presso Piazza Diaz a Montesilvano, dove oggi siamo a scioperare, vi è l'azienda speciale di Montesilvano, quella che è il più alto numero di lavoratori, circa 300, ma guardiamo anche in prospettiva perché nella Grande Pescara i lavoratori diverranno molti ma molti di più perché dovranno gestire i servizi per tre città che si uniranno in unica e cioè la Grande Pescara. Aurelio Di Eugenio, segretario regionale della Filt CGL, attacca l'assessore regionale ai trasporti Umberto D'Annuntis per gli aumenti sul trasporto pubblico. Vediamo. Aurelio Di Eugenio, segretario regionale della Filt Trasporti della CGL, lei denuncia una preoccupazione che serpeggia nell'utenza del trasporto pubblico abruzzese per il caro tariffe. Sì, la Regione Abruzzo dal primo di luglio del 2024 ha aumentato le tariffe per quanto riguarda il trasporto pubblico locale su gomma, ha aumentato del 10% gli abbonamenti per il 2024 e ha deliberato un ulteriore 10% di aumento per il 2025. Aumenti dal 27 al 38% per quanto riguarda i servizi di bigliettazione a tratta, le quali tratte sono state equiparate alle tariffe che allo stesso modo sono state aumentate del 10%. L'assessore ai trasporti D'Annuntis ha dichiarato che questi sono aumenti minimi. Io credo che questo è un aumento insopportabile per le famiglie abruzzesi e credo che noi come CGL abbiamo in qualche modo fatto una nota alla Regione Abruzzo, abbiamo chiesto alla Commissione regionale trasporto in un'audizione perché vogliamo spiegare che questi aumenti non sono giustificabili in quanto le aziende non hanno pagato di più i dipendenti, non hanno avuto un costo maggiore. Questa audizione la faremo insieme alle associazioni studentesche che insieme ai pendolari sono quelli più penalizzati. Lei parla anche di un problema relativamente alla ripartizione del Fondo Nazionale destinato alle Regioni. Sì, il problema vero è questo. L'Abruzzo gode solamente di una minima percentuale da questo Fondo Nazionale, il 2,69%. Noi chiediamo alla Giunta regionale, all'assessore De Annuntisi di intervenire nei confronti del Governo centrale per far sì che vengano immesse ulteriori risorse al Fondo Nazionale e quindi la nostra Regione potrà beneficiare di una percentuale maggiore perché siamo stufi che vengono sempre chiesti sacrifici agli abruzzesi e soprattutto ai pendolari abruzzesi. I rumors della politica si rincorrono sul rinnovo della Presidenza dell'Anci Abruzzo, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Secondo le indiscrezioni è in bilico un bis per il Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. È in bilico il rinnovo della Presidenza dell'Anci per il Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. Il primo cittadino del Comune Capoluogo tiene molto il rinnovo di questo incarico, sicuramente prestigioso e di alto valore istituzionale visto che l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani rappresenta gli interessi dei comuni associati dinanzi agli organi centrali dello Stato, ovvero Parlamento, Governo, Regioni e interviene in ogni sede istituzionale in cui si discutono e si amministrano gli interessi delle autonomie locali. Del resto, per un Sindaco che punta ad accreditarsi su palcoscenici più ambiziosi di quelli comunali la guida del Lanci è sicuramente un veicolo importante ma le logiche politiche potrebbero azzoppare il bis di un secondo mandato per D'Alberto. Le indiscrezioni vogliono che in assenza di un mancato accordo su una figura unitaria che compatti centrodestra e centrosinistra come pure logica vorrebbe per questo ruolo interistituzionale il PD potrebbe puntare su una donna. I rumors indicano il nome di Luisa Eberusso, Sindaco di Francavilla Il suo nome, peraltro, risponderebbe anche alla logica che il PD sta seguendo nei congressi di dare rinnovamento e centralità alle figure femminili visto che sia i parlamentari che i consiglieri regionali hanno tutti una rappresentanza al maschile Per il momento la notizia resta nell'alveo delle indiscrezioni L'ufficialità sarà sancita però solo dal voto dell'Assemblea regionale dei sindaci calendarizzata per il 18 ottobre Ed ora ci spostiamo a Roseto dove è stata approvata nell'ultimo consiglio comunale la mozione presentata dalla consigliera di opposizione Rosaria Ciancaione sulle barriere anti rumore della ferrovia Per la consigliera di liberi e progressisti i fondi PNRR dovrebbero essere utilizzati per arretrare o interrare la ferrovia Ci dice tutto, Fabio Talamonti Approvato nell'ultimo consiglio comunale di Roseto svoltosi venerdì la mozione contro l'installazione del barriere anti rumore su tutto il tracciato ferroviario Mozione presentata dalla consigliera di opposizione Rosaria Ciancaione Parte quindi la lunga battaglia con le ferrovie dello Stato su questa vicenda che da tempo divide la cittadinanza Per la Ciancaione è fondamentale l'arretramento della ferrovia o al massimo l'interramento riducendo notevolmente l'impatto acustico e quindi non alzando barriere di oltre 10 metri senza dimenticare una buona manutenzione lunghi binari prossimo step sarà quello di un tavolo di concertazione con tutti i comuni della costa terramana La vittoria sicuramente la vedremo quando a Roseto le ferrovie non presenteranno un ulteriore progetto appunto di barriere anti rumore ma agiranno dove abbiamo detto appunto come abbiamo detto nella mozione sulla fonte del rumore cioè sui treni, sulle rotaie, sulla linea ferroviaria Ecco, secondo voi meglio l'interramento o l'arretramento della ferrovia stessa? Questa è una, infatti nella mozione abbiamo ipotizzato anche questa soluzione che toglierebbe, in pratica eliminerebbe il problema in radice perché? Perché in pratica arretreremmo la ferrovia verso la collina oppure la interreremmo qualcuno dice ma sono cose avveniristiche, non è possibile ma io parlando con tecnici appunto mi dicono invece che è possibile assolutamente basta vedere la manica e quindi passare anche sotto nonostante noi stiamo a livello del mare Questa potrebbe essere la soluzione che noi sicuramente porteremo avanti insieme appunto alla prima soluzione piuttosto che le barriere anti rumore quando andremo a costituire adesso velocemente, ti abbiamo detto d'accordo ma questo tavolo di concertazione che abbiamo deliberato appunto nella mozione investendo un po', come si dice, coinvolgendo un po' tutti i comuni della costa perché non è un problema soltanto di Roseto, è un problema abbiamo visto in Molise abbiamo visto sulla costa marchigiana ma anche all'interno quindi le barriere anti rumore costituiscono un problema serio soprattutto per noi che viviamo al mare che in pratica queste bloccano la brezza in pratica quella che poi in estate ci dà quel minimo di sollievo dal caldo che ormai è diventato insopportabile Ed ora andiamo a Bisenti dove l'amministrazione comunale punta a riportare la sede comunale nel vecchio palazzo danneggiato dal terremoto è inagibile da anni, si dovrà individuare l'impresa e poi partire con i lavori ci dice tutto Rino Orsatti Sindaco Saputelli, vi siete messi in mente di recuperare il vecchio comune, perché? Il vecchio comune in pratica era disastrato dal terremoto e quindi abbiamo dovuto progetti su progetti alla fine è stato finanziato e diciamo nell'arco di un po' di mesi voglio sperare nell'arco di un annetto si spera, riapriamo la nostra sede Quindi ci tornerà il municipio? Certamente, lì tornerà il municipio ma abbiamo altri interventi l'intervento sulla chiesa madre di Bisenti che siamo anche lì nelle fasi di appalto la chiesa del vecchio cimitero la cappella del vecchio cimitero e le due scuole che verranno messe in sicurezza nell'ambito dell'adeguamento sismico Ce la facciamo a fare tutte queste opere prima della fine del suo mandato? Beh, questa è una speranza Tra l'altro, Sindaco, ci sono lavori che stanno interessando proprio il centro di Bisenti sono quelli per la fibra quindi ennesimi scavi e anche un po' di disagi Eh sì, un po' di disagi anche lì sono stati un po' indolenti loro perché l'avevamo già noi abbiamo rifatto come avete tutto il corso avevamo detto già a suo tempo se c'è da passare con la fibra per favore, facciamo direcelo Insieme, facciamolo insieme Esatto, li facciamo insieme ma no, non si preoccupa tanto la parte a monte abbiamo cercato di lasciare perdere fate gli scavi la parte a valle abbiamo detto e quindi significa che la fibra non passerà per il centro storico? Sì sì, passerà per il centro storico ma c'è dei singoli punti in modo tale che poi una parte passano per i fabbricati quindi diciamo che non romperanno tutto? Beh no anche perché sarebbe veramente uno scandalo Anche all'istituto Moretti di Roseto è iniziato il nuovo anno scolastico un istituto fra i più grandi della provincia che conta oltre 900 studenti quest'anno un incremento di oltre 50 ragazzi ha spinto la provincia ad investire per la realizzazione di due nuove aule vediamo Comincia l'anno scolastico anche all'istituto Moretti di Roseto degli Abruzzi anche quest'anno numeri importanti per il plesso superiore rosetano oltre 900 gli studenti iscritti con un incremento di 50 ragazzi permane però il problema delle aule ed infatti dopo la visita del presidente della provincia di Termo Camillo D'Angelo si è deciso di velocizzare i tempi per la realizzazione di due nuove aule e due nuovi uffici di segreteria sempre all'interno dell'area scolastica il tutto ricavando spazio da vecchie strutture e quindi ci saranno tempi celeri Ogni anno noi abbiamo avuto in questi ultimi tre anni un incremento di iscritti e per questo anno insomma abbiamo sfiorato i 200 iscritti al primo anno con una formazione di 11 classi prime e quindi siamo molto soddisfatti l'unica preoccupazione sono gli spazi e la provincia in questo senso ci sta dando una mano cercando insomma di collaborare nel reperimento e nell'adattamento di spazi già esistenti quindi ristrutturazioni di alloggi dell'ex custode e sistemazioni di altri spazi Quest'anno a livello nazionale parte il progetto 4 più 2 cioè le scuole superiori tecniche e professionali possono scegliere questo tipo di indirizzo io ricordo che la nostra scuola di Moretti è da anni nell'ambito del quadriennale perché noi abbiamo un corso la FM sarebbe ex ragioneria specializzata proprio dall'amministrazione finanze e marketing che è di 4 anni quindi è una scuola in continua evoluzione la fortuna come diceva anche la preside Maranella è che gli studenti aumentano e quindi per noi ovviamente è un grande diciamo anche passo in avanti dal momento che purtroppo la popolazione anche provinciale degli studenti sta in diminuzione quindi speriamo di continuare con questo trend Venerdì 20 e sabato 21 settembre torna al molo sud del porto di Giulianova la manifestazione della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia Terea Mare quest'anno l'iniziativa è abbinata al campionato italiano assoluto per equipaggi di drafting vediamo La Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia in collaborazione con Asso Nautica Teramo il circolo nautico migliori di Giulianova l'associazione Caliscendi e l'associazione dei ristoratori di Giulianova organizza in occasione del 39esimo campionato italiano assoluto per equipaggi di drafting 2024 la seconda edizione di Teramare la costa teramana protagonista della Blue Economy Venerdì 20 e sabato 21 settembre dalle 18.30 in poi presso la banchina del molo sud del porto di Giulianova sarà allestita un'area hospitality per degustare i piatti della cucina marinara in abbinamento con i vini delle colline Teramane Per noi è un momento importante come Camera di Commercio ci teniamo molto sia a tutelare in qualche modo a parlare del settore agricoltura in senso ampio ovviamente anche del settore pesca dell'ittica e di quello che il nostro porto rappresenta come infrastruttura innanzitutto perché comunque riusciamo come vedete ad attrarre anche manifestazioni importanti Quest'anno avete deciso di abbinare le due manifestazioni? Sì, abbiamo approfittato che si organizzerà a Giulianova il 39esimo campionato di pesca d'altura al tonno gigante e richiamerà tantissime persone parliamo di oltre 300 uomini e donne che verranno qui con le loro barche a pescare il tonno e abbiamo inserito all'interno di questa manifestazione la bella iniziativa della Camera di Commercio in maniera tale che venendo tante persone da fuori possiamo far conoscere i nostri prodotti valorizzare l'enocastronomia del nostro territorio quindi abbiamo fatto un evento unico Gli equipaggi presenti alla competizione saranno 50 è composto ogni equipaggio da 5 persone e funzionerà sostanzialmente a chi pescherà più tonni e di maggiore grandezza quindi alla fine dei giorni di gara chi avrà raggiunto un risultato migliore vincerà la competizione I tonni pescanti durante la gara verranno tutti rilasciati in mare Questa mattina i giovani protagonisti della semiresidenza alla piazzetta gestita dalla fondazione Anfas Onlus Teramo hanno accolto i rappresentanti dell'associazione Inter Club La Bene Amata che hanno accompagnato il loro generoso e solidale contributo alla fondazione con l'omaggio di gadget nero-azzurri agli utenti della struttura erano presenti i componenti del consiglio direttivo del club che hanno ricevuto il ringraziamento dei ragazzi e del personale di Anfas la visita va a completare il gesto di solidarietà già concretizzato dal club con una donazione di 500 euro che aiuterà a sostenere le attività sociali che la fondazione Anfas Onlus Teramo intende realizzare a favore delle persone con disabilità per assicurare loro la migliore qualità di vita questa donazione rappresenta la prima iniziativa benefica del giovane Inter Club operante nella provincia di Teramo bene con questo è tutto io vi lascio alle previsioni del tempo e poi alle 20.30 non perdete una nuova puntata di Super Goal grazie per l'attenzione e buona serata